Godetevi una pulizia più silenziosa, grazie all'aspirapolvere Inventor Epic. Grazie al suo design intelligente e all'emissione sonora a 68 dB, avrete la libertà di passare l'aspirapolvere in qualsiasi momento della giornata. È davvero semplice da usare, grazie all'impugnatura ergonomica e ai comandi integrati, in modo da poter cambiare facilmente le impostazioni senza doversi piegare. Tutto ciò che si seleziona sarà visualizzato sul display a LED dall'aspetto super elegante, dai livelli di potenza alle impostazioni di pulizia per i diversi tipi di pavimento. Il filtro HEPA di questo modello è ottimo per chi soffre di allergie, in quanto intrappola il 99,9% degli allergeni, il che significa che solo l'aria fresca e filtrata viene espulsa nuovamente nella stanza. E per rendere ancora più facile l'aspirazione, ha un cavo extra lungo che consente un raggio di pulizia di 12 metri, così non dovrete continuare a fermarvi per staccare la spina. Questo modello viene fornito completo di una fessura, di una bocchetta per la polvere e per i mobili, oltre che di una spazzola per parquet per pavimenti duri. Se cercate potenza e prestazioni più silenziose, l'aspirapolvere Inventor EPIC vi darà tutto questo e molto altro ancora.